Aeroporto Arlotta, interviene Mino Borracino, consigliere regionale di sinistra italiana, liberi e uguali, tante opere incompiute, per ora nulla di fatto. Mi riferisco in modo particolare all'assegnazione di 2 milioni di euro destinati ad aeroporti di Puglia per lavori di riqualificazione dell'aeroporto di Taranto Grottaglie. Dal momento che in questi ultimi tempi il sito di Grottaglie è chiamato in causa per attività varie e volute dalla politica regionale, non certo dal mercato, registriamo che l'ampliamento del piazzale aeromobili non è stato mai realizzato. La costruzione di una bretella per consentire l'ingresso in pista dell'aeromobile non direttamente dal piazzale di sosta, anche questa opera mai realizzata. Ammodernamento dei locali dell'aerostazione con i relativi servizi, nuovo nastro bagagli, ampliamento gate, insomma normalizzazione della struttura secondo gli standard europei. Ancora niente di fatto. Dimenticavo, prosegue Borracino, la dichiarazione del Presidente riguardante il fatto che aeroporti di Puglia è in rete e che i maggiori guadagni degli aeroporti più grandi venivano destinati a quelli minori. Tutte affermazioni che sarebbero da contestare in toto, ma non voglio utilizzare questa nota per polemizzare col Presidente. Io continuerò a sollecitarlo fino a quando non mi spiegherà, con il codice della navigazione alla mano, chi ha ragione. Aeroporti di Puglia, col suo atteggiamento negativo, o il territorio che vuole che si ripristini l'applicazione dei contratti sottoscritti nel 2003? Non so fino a quando il Presidente manterrà la sua posizione al momento silente, ricordando che l'aeroporto di Taranto fu messo in esercizio, pur essendo negli anni Sessanta una base militare dell'aeronautica, proprio per Little Sider fu costruita una superstrada a scorrimento veloce, proprio per collegare Taranto allo scalo grottagliese. Quindi, conclude Borracino, l'aeroporto non può essere reclamato come alternativo alla siderugia, bensì come una infrastruttura di servizio per una collettività multiforme, che non vive solo di grande stabilimento, ma di tante altre forme di economia, a volte sconosciute alla grande moltitudine dei cittadini.